3 su 3, terza vittoria esterna di fila e primato solitario, solidità, ordine, test e cinismo. Anche a Chiavari il Pescara ha confermato di essere una squadra capace di soffrire senza disunirsi nei primi 30 minuti, ma soprattutto di sfruttare l'episodio che vale un successo pesantissimo. Dopo la prova in colore con la Perugia, una risposta senza alcun dubbio significativa, terzo clean sheet in 6 gare. Per apprezzare un solo intervento al minuto 83, non particolarmente complicato, su conclusione da fuori di Casarotto. A centrocampo prova maiuscola di Lonardi, migliore in campo, tatticamente perfetto. In certi momenti fa quasi il quinto difensore, schermo protettivo, spiccato senso della posizione, efficace nel dettare i tempi del pressing e pulito nella gestione della palla. Partita sostanzialmente fisica, sporca, poche occasioni, liguri aggressivi e due volte pericolosi solo nel primo tempo. Contro il Perugia il Pescara ha sofferto senza perdere. Ieri invece l'undici di Baldini è riuscito a vincere una partita che si stava incanalando sui binari della pareggio. Fa tutta la differenza del mondo. Perché? Perché la fase difensiva è fondamentale. Ti consente di fare punti quando non giochi al massimo. In sintesi, la differenza tra un percorso normale e un campionato importante.